Ciao a tutti ragazzi, sono Isabella Cinelli, oggi sono Master Trainer della Federazione Italiana Fitness con la quale ormai collaboro da 90 anni, il mare ti capito bene, ormai sono tantissimi anni che lavoro con loro ho sposato lo studetto e me lo sono cucito sul cuore, diciamo così il mio mondo è tutto nello sport, gira da sempre la mia vita nello sport, diciamo da quando sono nata avevo pochi anni che mio padre e mia madre mi portarono in una palestra e dall'unico sempre oggi sono più uscita ho praticato ginastica artistica, dopo sono passata alla danza e mentre studiavo danza in parallelo sono dedicata al fitness per mantenermi agli istituti universitari e poi ho conosciuto FIF nel 94-95 con le grandi compleci da lì diciamo che non l'ho più collata FIF alla grande guida di Gulliot, Boris, questi nomi altisonanti che sono diventati un po' i maestri di quelli che oggi hanno un po' la meta che nominerò nel nostro topocultura e dopo tanti anni Gullio poi mi chiese di partecipare alla scuola formativa di Pilates e da lì è stato un amore a prima vista anche se erano già anni che lo praticavo per la mia schiena quindi dopo essere occupata di fitness musicale e di personal trainer oggi mi occupo solo di Pilates vi aspetto tutti ai corsi di formazione FIF con il Pilates ragazzi